L'unico a non poter gioire della vittoria di Marsiglione Abruzzo è il sindaco di Pescara Carlo Masci a farlo notare il Movimento 5 Stelle che ne stigmatizza l'improvvisa inversione di rotta su questioni calde che fino a ieri lo trovavano intransigente. Sta accadendo che si avvicinano le elezioni e quindi evidentemente il sindaco sta cercando di riabilitare la sua immagine agli occhi dei cittadini, tornando indietro proprio su alcune delle questioni che invece hanno contraddistinto in negativo la sua amministrazione in questi cinque anni, prima via Marconi tornando indietro ora con l'ipotesi di ripristinare parcheggi e addirittura con la possibilità di rimuovere i T-RED dagli incroci semaforici dopo che migliaia di cittadini sono stati vessati da questa scelta e utilizzati in una vera e propria operazione Bancomat. Quanto ha incassato il Comune in due anni? Soltanto tra il 2021 e il 2022 che sono gli ultimi dati ufficiali dal Ministero degli Interni si parla di circa 11 milioni di euro, quindi ora ha veramente il sapore della butada elettorale il fatto di tornare indietro su questa scelta proprio a poche settimane dalle prossime elezioni amministrative, ma probabilmente questo non servirà certo a far cambiare idea ai cittadini che si sono fatti un'idea ben precisa in questi cinque anni a loro spese della gestione da parte dell'Aggiunta Masci. Ma questi T-RED sono regolari o irregolari? Su questo incombe anche l'imminente modifica del codice della strada che a breve dovrebbe essere approvata e che prevede un giro di vite sull'utilizzo dei rilevatori di velocità e dei T-RED in particolare, prevedendo addirittura la possibilità che in alcuni casi ci sia un divieto di collocare questi rilevatori lì dove ci siano già dei limiti di velocità adeguati e comunque la loro utilizzabilità, la loro applicabilità sarà subordinata a delle motivazioni di sicurezza ben documentate. Insomma voi dite Masci mette le mani avanti pensando alle elezioni? Sì, dopo averle messe le mani nelle tasche dei cittadini ora le mette avanti in attesa delle elezioni.